Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo in Milano e questa è la chiesa di San Gottardo al Corso abbiamo un concerto di 5 campane che adesso ascolteremo per l'Angelus è la prima domenica di quaresima a tutti i campanari di Youtube a tutti i campanari di Youtube a tutti i campanari di Youtube a tutti i campanari di Youtube